Bando dell'ascensore rischia di finire nel cestino, molti si chiedono se verranno ricontattate le stesse ditte. A una settimana dall'apertura del ponte il comune vara un'ordinanza che vieta il Ponte Nuova, pedoni e ciclisti. Migliaia di studenti torna alla scuola a Bassano fra paure e aspettative e tanta voglia di rivedersi. Piccolo Ettore dal porto torna a scuola ma la situazione non è cambiata rispetto all'anno scorso. Lupi scatenati in alto piano, l'europarlamentare Borchi avverte a Bruxelles, sta cambiando l'aria. Incidente a San Zenone, 19enne, ferito dopo essere uscito di strada, il ragazzo accusa un pirata della strada. I velox di Cadone che piombano oggi in consiglio comunale che si preannuncia incandescente. Semina il panico a Piazzola, gradisce un carabiniero, arrestato uno straniero. Buonasera e benvenuti al Tg Bassano. Apriamo questa edizione con la situazione dell'ascensore perché non si sa che fine farà il progetto e ci sono tante domande che alleggiano. Un giorno forse l'ascensore obliquo farà su e giù con i suoi due stantuffi fra Prato, Santa Caterina e Viale dei Martiri, approdando magari davanti a un nuovo teatro Astra. Ma per il momento questa cartolina di Bassano resta infilata come un segnalibro nel faldone delle opere da farsi. Quando è tutto da vedere e a questo punto qualcuno potrebbe anche dire se verrà realizzato l'ascensore, anche se il vice sindaco Andrea Zonta ha assicurato che il progetto resta nel mirino dell'amministrazione Pavan. Il motivo di tutti questi se, ma e però è presto detto. Il comune ha invitato 12 aziende a partecipare alla gara per l'ascensore ma se ne è presentata una sola e già così qualcuno potrebbe chiedersi perché un lavoro così importante e prestigioso non sia risultato appetibile per 11 dodicesimi delle ditte interpellate. L'unica ditta che ha risposto ha messo sul piatto una richiesta di 811.798 euro e spiccioli IVA inclusa. Poi però qualcosa si è incrinato nei meccanismi che avrebbero dovuto portare alla costruzione dell'ascensore. Secondo alcune fonti, infatti, la ditta avrebbe espresso importanti perplessità di fronte al progetto. L'amministrazione parla invece di una crescita di prezzi che su un progetto redatto appena pochi mesi fa appare piuttosto inusuale. E quindi, come già detto, il rischio è quello di una ripartenza della gara a cifre adeguate, ovvero, secondo qualche ben informato, con un costo di almeno 400.000 euro in più e siamo già attorno al milione e due. Soldi fino a prova contraria dei bassanesi. Ma qui si aprono anche alcune questioni per ora irrisolte, con qualche domanda che aleggia sul verde della riva che da Viale dei Marti riguarda i monti. Per esempio, arriverà un provvedimento di annullamento dell'affidamento? Si riuscirà ad emettere il bando e assegnare l'appalto entro fine anno? E poi saranno invitate le stesse medesime ditte alla nuova gara? Domande, vedremo se qualcuno avrà voglia di rispondere o vedremo comunque come andrà a finire. Cambiamo argomento ma restiamo in centro perché dopo quasi una settimana dalla riapertura del Ponte Nuovo, dopo tutte le polemiche e i problemi, finalmente, lasciatecelo dire, arriva un'ordinanza che disciplina il traffico sul ponte. Finalmente, il caso di dirlo, nero su bianco, arriva l'ordinanza. Arriva una settimana dopo la riapertura del Ponte della Vittoria, a senso unico di marcia, un po' tardi in effetti. Dopo avere più e più volte ribadito il divieto d'accesso con tanto di cartelli, seppur messi pure questi con qualche giorno di ritardo, in entrata e uscita del ponte, dove si evince chiaramente dai disegni che pedoni e ciclisti non possono passare, né in senso est-ovest, meno che meno in quello contrario. Così dal Palazzo Municipale si sforna un documento in cui si scrive, evidenziato in grassetto, giusto perché anche i deboli di vista non si sbaglino, l'ordine che il transito nella direttrice di marcia aperta al traffico sia consentito solo ai veicoli a motore, con esclusione dei pedoni, velocipedi e assimilati. Insomma, ciclisti e pedoni non possono passare sul Ponte Nuovo, dove ancora è allestito un cantiere che durerà sino al termine dei lavori di sistemazione della parte superiore dell'infrastruttura. Il divieto è fondamentale per garantire la sicurezza di chiunque si trovi a transitare nel tratto specifico di Viale Diaz sopra il Brenta. Eppure anche oggi si sono viste scene da brivido, con ciclisti che impunemente attraversavano il ponte, pedoni che lo percorrevano addirittura contro mano. Ora il Comune deve prendere una decisione ferma, perché in questa maniera veramente sembra che si voglia prendere in giro chi amministra la città. Tanto non succede nulla, dicono. Al proposito, c'è chi chiede un controllo maggiore della polizia locale, un intervento che dovrebbe essere fisso, fino a che la gente non capisce almeno che la cosa è molto seria, per non piangere, dopo che magari accade la tragedia. Oggi, primo giorno di scuola, vediamo com'è andata a Bassano. A Bassano, 8.000 studenti e studentesse di elementari, medi e superiori presenti al primo giorno di scuola. Anche negli istituti della città, ai piedi del grappa, è suonata la campanella, tra emozioni della novità, trepidazione, con qualche mese di anticipo per chi dovrà affrontare l'esame di maturità, e i professori che non hanno perso tempo, fissando sin da subito le prossime interrogazioni. Insomma, la scuola ha ripreso il ritmo alla grande. E se c'è chi rimpiange l'estate, passata troppo in fretta, su tutto trionfa il piacere di ritrovare i compagni di classe con cui condividere i prossimi nove mesi. È andata bene, ho ritrovato i miei compagni, sono stato lieto di ritrovarli, insomma. Comunque dai, partiamo carichi, è bene. Diciamo che la corriera non è passata, quindi sono arrivata in ritardo. Quindi è stato un primo giorno un po' diverso dal solito. Un ultimo primo giorno di scuola, quindi me l'aspettavo un po' meglio, però vabbè, dai. Diciamo che è iniziata già con l'ansia dell'esame, quindi speriamo bene. Me l'aspettavo un po' più difficile, però tutto sommato è andata bene, dai. Una nuova avventura. Sì, sì. E adesso si ricomincia, abbiamo già qualche interrogazione nei prossimi giorni, quindi... Già fissata? Sì. Non perdono tempo, eh? Sì. E così, insomma, spero che vada tutto bene, comunque l'anno scorso è andata bene. Sono passata con la media dell'otto, quindi tutto a posto. Mi sono trasferita appena adesso da un'altra scuola, quindi... Cioè, è stato particolare, però... Beh, insomma, bello. Mi sono trovata bene. Bene. Io sono il primo anno. È andata bene, però comunque l'ansia c'era. Stamattina non riuscivo a svegliarmi, perché ero troppo in ansia. E abbiamo parlato tanto con i professori, come sono andate le vacanze in generale. È stato tranquillo, sì. Poi abbiamo visto compagni nuovi. È bello, fare sempre nuove amicizie, sempre una cosa bella e utile. Ci hanno già fatto sentire la pressione per gli esami, ma tutto sommato... Cominciano subito? Sì, sì, cominciano subito. Che aspettative! Si spera bene, si spera un anno tranquillo, però si vedrò. E a Marchesane, per iniziare bene l'anno scolastico, il tradizionale alza bandiera. Dopo il passaggio dagli alunni di Quinta agli Alpini del Tricolore, al via l'alza bandiera sul nuovo pennone alla scuola elementare della frazione di Marchesane, trasferita in quello che era il plesso delle medie. Gli Alpini hanno dato il via al nuovo anno scolastico, salutando alla presenza di amministratori, associazioni e genitori, bambine e bambini pronte ad affrontare i prossimi nove mesi di lezioni in una struttura completamente rinnovata. Anno scolastico nuovo, vecchi problemi per Ettore Dal Porto e la sua famiglia. Per rivedere garantite tutte le ore di assistenza scolastica a nostro figlio, più o meno dovremmo noi famiglia essere lì presenti a scuola fino a febbraio. Anno scolastico nuovo, vecchi, consuetudini per la mamma e il papà di Ettore Dal Porto. Il bimbo colpito dalla sindrome di Mebius, che rende indispensabile al suo fianco la presenza di una persona formata appositamente. Delle 27 ore scolastiche di Ettore, infatti, ben sette sono a carico della famiglia, che rivela come questa situazione sia dovuta a un ritardo da parte delle autorità nell'organizzazione del servizio. A marzo c'è stato comunicato che sarebbe stato cambiato un os, c'era tutto il tempo per gestire la formazione e la contestualizzazione, ma questo non è stato fatto. Abbiamo dovuto mandare una PEC a giugno e dopo questa PEC hanno iniziato a muoversi delle cose. Solo che appunto questo ritardo causa il fatto che per contestualizzare le due nuove figure che abbiamo trovato ci vorranno sei mesi come minimo. Lungaggini che, nella spiegazione della famiglia di Ettore, comportano un ritardo nella formazione indispensabile del personale, che deve seguire il piccolo. E così papà Riccardo, mamma Elisa devono darsi il cambio per garantire al bambino la presenza in classe durante le ore di lezione. E proprio la mamma è stata oggetto di una grande dimostrazione d'affetto dei colleghi che le hanno donato molte ore di ferie da poter utilizzare a fianco del suo piccolo. Altrimenti avrebbe dovuto licenziarsi già da un pezzo. Da marzo a giugno non è stato fatto niente, non sappiamo il perché. Abbiamo appunto dovuto mandare una PEC a tantissime persone, compreso il garante dei diritti per i minori. Solo dopo questa PEC le cose si sono smosse. La malattia di Ettore è rara, ma la situazione di questa famiglia è simile a quella di tante altre famiglie in Veneto e in Italia, che chiedono solo di poter garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione di loro figli. La nostra situazione purtroppo non è una cosa singola, una cosa isolata, ma ci sono tante altre persone, altri tanti genitori che hanno le nostre stesse problematiche. Cambiamo decisamente argomento. Saliamo in alto piano, dove il problema dei lupi, lo conosciamo, è piuttosto grave ormai da qualche tempo, ma il vento sta cambiando anche in Europa. Basta con gli animali di serie A e di serie B, basta con le immagini di carcasse aperte e sbranate dai lupi. Dopo anni di richieste qualcosa si sta muovendo in Europa sul tema dei lupi, che in molti paesi rappresentano ormai da tempo un problema. Ne sanno qualcosa sull'alto piano dei sette comuni, dove la stagione dell'alpeggio è stata funestata da continui attacchi di selvatici alle bestie al pascolo. Vacche, asini, cavalli, pecore hanno pagato ancora una volta un prezzo molto alto assieme a chi lavora e vive della montagna veneta. Ma da Bruxelles potrebbero arrivare novità, viste le molte spinte dai paesi europei per eliminare lo status di animale protetto per la specie, e viste anche le aperture in tal senso. Già a novembre dello scorso anno avevo chiesto alla Commissione europea di rivedere lo status di protezione del lupo. Adesso, finalmente, è passato quasi un anno e finalmente dalla Commissione europea arriva la consultazione pubblica con gli stati per cercare di rivedere appunto il livello di protezione dei lupi. Il percorso è ovviamente complesso e dovrà compenetrare le esigenze di più mondi. Nessun eccesso né di ambientalismo né di giustizialismo dall'altra parte, ma solamente equità e solamente serve mettere nelle condizioni i nostri agricoltori per dormire sonni minimamente tranquilli senza il terrore di risvegliarsi la mattina con i capi totalmente sbramati. Per quest'anno ormai la stagione dell'Alpeggio è agli sgoccioli. San Matteo è alle porte e tradizionalmente questa data segna il ritorno nelle stalle degli animali dalle terre alte. Ma fra qualche mese il problema delle predazioni si presenterà nuovamente. E l'Alto Piano vuole risposte. Passiamo alla pagina della cronaca. C'è stato un incidente a San Zenone degli Ezzeline. Pare che si stia cercando un pirata della strada. Il furgone ha invaso la corsia opposta, ho sterzato e mi sono schiantato per evitare il frontale mentre chi ha causato l'incidente è fuggito. Ha raccontato questo ai carabinieri di Pieve del Grappa il 19enne egiziano che stamattina è finito fuori strada rimanendo ferito fortunatamente non in serie condizioni. Un furgone pirata dunque che si sarebbe allontanato a gran velocità. I militari dell'arma stanno vagliando in queste ore la ricostruzione del giovane che tornava a casa dopo aver accompagnato il fratello per un viaggio. Soccorso dai sanitari del SUEM è stato portato a Castelfranco per accertare la gravità dei traumi subiti. Cambiamo ancora argomento, parliamo dell'importanza del dono. Immagini del 1983 che arrivano fino a noi continuando a parlare di amicizia e solidarietà. 40 anni all'insegna dell'altruismo e della volontà di compiere un gesto che è dono di vita. E il gemellaggio si rinnova tra Fidas Vicenza e Fidas Lecce che il 16 e 17 settembre continueranno a promuovere l'invito alla donazione del sangue invito lanciato e colto proprio 40 anni fa. 40 anni fa una delegazione di persone qui da Vicenza è partita in treno per andare direttamente a donare il sangue in terra leccese proprio perché ce n'era tantissima necessità. E da lì è nata questa amicizia, un'amicizia che non è solamente un'amicizia di sangue ma anche un'amicizia vera e propria che ci permette ogni 10 anni di andare a visitare i loro territori e per questo quarantesimo abbiamo deciso di far visitare i nostri territori a loro. E a Vicenza si riuniranno le due delegazioni di donatori di sangue, Vicenza e Lecce per una sfilata in centro e una messa presieduta dal Vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto. L'obiettivo è quello di mostrare ai cittadini la bellezza dell'altruismo che permette alle persone di vivere grazie alle cure trasfusionali. Ma vorrei invitare veramente tutti i donatori di sangue, la cittadinanza intera, i nostri amici simpatizzanti la domenica 17 mattina in Via Roma dove partirà il corteo per la sfilata e andrà direttamente poi a sfilare per le vie del centro e arrivare in Piazza dei Signori per coronare poi alle 10.30 una santa messa solenne celebrata dal Vescovo. Occasione anche per fare il punto sui dati relativi alle donazioni nei primi otto mesi dell'anno che mostrano un trend positivo. Si sta chiudendo anche questo agosto, siamo a 18.700 donazioni quindi un 300 donazioni in più rispetto ad agosto scorso, un buon trend per il 2023. Trend di donazioni in crescita su cui però incombe il rischio di una frenata autunnale. Non nascondo un forte pensiero in relazione a due temi importanti. Uno è la carenza medici, soprattutto in ulse 7, probabilmente nei prossimi mesi che porterà ad avere anche delle difficoltà di gestione dei cenni trasfusionali e un secondo tema è proprio quello del nuovo sistema informatico regionale che probabilmente entrerà in vigore entro la fine dell'anno e porterà a trambusto anche a tutti i donatori di sangue. Lutto a Romano Dezzelino è morto Luigi Nozonta. Lutto a Romano Dezzelino dove ieri sera si è spento Luigi Maria Zonta per tutti Luigino, artigiano di 66 anni, padre di due figli e nonno. Molto conosciuto in paese, gestiva assieme ai fratelli un'attività nel settore della carrozzeria e noleggio veicoli. Era il maggiore di 10 fratelli, dedicava tutto il suo tempo libero al volontariato e ai giovani. Per anni infatti ricoprì il ruolo di presidente della Romano Volley impegnato nel sociale e nell'associazionismo fece parte del direttivo dell'Associazione Artigiani di Bassano. Durante il difficile periodo della malattia aveva sempre cercato di alleviare le preoccupazioni dei suoi cari che lo vogliono ricordare come un grande guerriero che lascerà un enorme vuoto nel cuore di chi lo aveva conosciuto. Il funerale di Luigi Nozonta si terrà venerdì prossimo il 15 settembre alle 15.30 nella chiesa di Fellette. Vediamo tutte le altre notizie dal territorio. A Colceresa 200.000 euro di investimenti per la sicurezza pedonale e il comfort scolastico con due interventi che riguardano il marciapiede della scuola Amazon Vicentino e il miglioramento del plesso scolastico di Molvena. Domenica a Tezze sul Brenta al centro sportivo di Stroppari tutto pronto per la festa delle associazioni e l'avvio della terza edizione del concorso Io mi muovo in bici. Terminate a Cittadella i lavori per la modifica della viabilità in via Gabrielli vicino alla scuola Cornaro realizzate un'isola pedonale fronte scuola per impedire le fermate delle auto un percorso pedonale a servizio dei parcheggi e un'area di sosta per soli bus. Il Velox Killer, cosiddetto, di Cadoneghe piomba in consiglio comunale. Un unico punto all'ordine del giorno le multe del Velox lungo la SR307 che hanno tolto il sonno a migliaia di automobilisti quest'estate. Un consiglio comunale che si preannuncia non facile né breve per l'amministrazione di Cadoneghe è prevista anche la presenza di una rappresentanza dei multati che attendono di sentire in primo luogo l'intervento del sindaco Marco Schiesaro e poi di conoscere il loro futuro molti di questi in tasca hanno pacchetti di multe anche per aver superato di pochi chilometri il limite dei 50 chilometri orari. La seduta straordinaria del consiglio comunale è stata richiesta dal gruppo della minoranza che ad agosto aveva anche inviato un esposto al prefetto per chiedere la sospensione delle rilevazioni del Velox al momento ancora fuori uso dopo l'atto vandalico avvenuto nella notte dal 9 agosto. I multati chiedono chiarezza come più volte ribadito anche i nostri microfoni l'ultima occasione nella puntata di Ring andata in onda lunedì sera su Antenna 3. Sotto la lente di ingrandimento i dati forniti dal comune di Cadoneghe alla prefettura riguardanti il numero di incidenti effettivamente avvenuti in quel tratto di strada dato necessario per decidere il posizionamento e la taratura a 50 chilometri orari del limite del Velox. Momenti di tensione ieri a Piazzola sul Brenta un tunisino ubriaco prima ha creato il panico fra i presenti poi ha sferato un pugno a un carabiniere intervenuto per fermarlo. Lo straniero in forte stato di alterazione stava importunando i passanti in via Dante e aveva iniziato a litigare con una persona all'arrivo dei carabinieri ha aggredito, umilitare alla fine è stato bloccato portato in caserma è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordiamo che questa sera alle 21.15 il nostro direttore Luigi Bacciali avrà ospiti in una puntata decisamente interessante di Focus Nicola Talmi, Marco della Pietra Alberto Ferri Giuseppe Montuori Alberto Ruggin e Marco Zecchinell grazie per essere stati con noi vi auguriamo una buona serata vi lasciamo al meteo